Cosa fa? Ma no sul cactus! Ci sanno di l'acqua le piante? Quella pianta non ha bisogno di acqua. Ma porca miseria! Il cactus fa male lì, eh. No! Pugge! Non poco! Non starà benissimo quell'uomo, eh. Sembra proprio di no. Dov'è fuori? Ma perché non c'è mai quando sono qui? Sta facendo... Ah, non sta... Ah, è l'operazione? Togliendo le spine? Eh beh. Ma da dove? Eh, da lì. Farà male, eh. Poverino. Due le han tolti. Due spine e altre? Finire contro il cactus non è mai... No, sentite! Ma come ha fatto a prendere quella roba lì? Poi? Altro? No, no, no! Non c'è successo questo? Quello sai, il coso di Tabeta, lei. Delle spine... Ah, inaltro. E poi? Oh... Cos'è? Cos'è? Un cucchiaio? No, scusate. Vabbè. Basta, siamo a posto? Oh, è guarito. E sono col... Oh! No! Ma basta! Ma basta! Stavo dicendo, ci colleghiamo con un... Come dire, con un... Cos'è successo? Ma come... Stavo sprimacciando i cuscini. Ma perché si lancia? Boris, lancia il collegamento. Ma ancora? È un metodo proprio. Ma come fanno... Marina! Che ho fatto, Marina? Che ho fatto? Gli ho spappolato la faccia, gli ho spappolato! Gli ho spappolato il cervello!